Cosa è andato? È andato il fatto che abbiamo portato a compimento questo forum con un programma che si era posto l'obiettivo di gettare le basi di nuove relazioni alla città con il mondo. Naturalmente questo è un punto di arrivo relativamente al programma del forum, un punto di partenza per la città che adesso la città dovrà saper sfruttare al meglio e sono convinto che lo farà. Cosa non è andato? Non è andato lavorare con questi tempi, non è andato lavorare con un programma da fare giorno per giorno e quindi con una difficoltà obiettiva anche a riuscire a comunicarlo efficacemente e con il tempo giusto e necessario. Non è andato sinceramente, devo dire, anche molto spesso il rapporto con la stampa che è stato appunto molto viziato da un pregiudizio nei confronti del forum. Mai nei miei confronti, ma nei confronti del forum. Il Forum Universale delle Culture di Napoli stamattina in conferenza stampa al PAN ha fornito le cifre della manifestazione, dai 223 giorni della durata alle 63 nazioni di provenienza dei quasi 3.000 protagonisti, per un budget di oltre 10 milioni di euro che ha consentito di realizzare 144 progetti ed 888 attività in 123 luoghi della città. E' quanto emerge dai dati resi pubblici dall'organizzazione, che ha risposto a numerose domande sulla complessa storia che ha portato a definire i programmi del forum, tra i quali sono stati evidenziati anche quelli che hanno lasciato la maggiore eredità sul territorio. Beh, innanzitutto vorrei ricordare che grazie anche al progetto su Edoardo, il suo trentesimo, abbiamo costituito una scuola di alta formazione teatrale che tra l'altro, grazie alla sua generosità, adesso abbiamo sotto la direzione di Luca De Filippo il lavoro che abbiamo fatto per esempio su Caruso, l'impegno ad acquisirne la casa, di mettere in atto poi delle attività legate a questo nome straordinario, tutto il lavoro che abbiamo fatto per recuperare tanti importanti luoghi, monumenti. Penso al teatro di Forcella e ai dialoghi sulle mafie, il teatro di Forcella dove c'è Gianni Durante, il papà di Anna Lisa, che adesso è il luogo di un grande progetto che riguarda la formazione teatrale dei ragazzi a rischio. Insomma potrei fare altri esempi, questi cento fiori, questi tanti semi gettati, noi speriamo che possano fiorire, arricchire la vita culturale e migliorare la qualità della vita civile di Napoli. Se mi si chiede un bilancio io penso che il bilancio del forum sia non solo positivo, io personalmente sono soddisfatto, ritengo che questa sia appunto una buona pratica perché si è fatto un lavoro molto incentrato sul territorio e sulle relazioni e questo territorio potrebbe allacciare con il mondo. Ho compiuto un'operazione che in ogni caso è un'operazione dignitosa e spero che appunto adesso si possa ripartire perché tutto questo patrimonio di relazioni costruito nel corso di questi mesi possa essere messo a frutto nell'interesse della città. Grazie.